Passo avanti per ITER autorizzativi finalizzati all'avvio dei cantieri per la creazione della bio-rafineria e domani incontro alla Commissione del Ministero dell'Ambiente per la non assoggettabilità della via, la valutazione di impatto ambientale che avrà esito entro il 12 marzo prossimo. CGL e Cisle Will nel corso dell'incontro di ieri al Mise hanno rivendicato l'avvio delle bonifiche ed alcune sono già in fase di appalto e sono tre su un totale di 11 e di queste 6 si avvieranno entro 60 giorni. Le restanti due sono di competenza della Regione Sicilia e si riferiscono all'area di Pozzillo e Cammarata già dismesse dove c'erano dei pozzi. Tutti i cantieri riferiti all'attività di esplorazione a mare hanno subito dei rallentamenti perché si aspetta da parte del Consiglio di Stato la sentenza slittata al 9 giugno prossimo. In merito al progetto Guaiul la Regione Sicilia si è impegnata a trovare altre aree attraverso l'ESA nella provincia di Caltanissetta per la sperimentazione dello stesso. I sindacati esprimono perplessità riferite a tempi e modalità. Per quanto riguarda il progetto GNL gas naturale liquefatto in previsione dell'utilizzo da parte di navi potenzialmente interessate il Governo si è impegnato a valutare le condizioni di mercato e la relativa appetibilità. Durante l'incontro di ieri è stata evidenziata a più riprese l'utilità dell'area di crisi complessa e qui si è registrato uno scontro con il Governo perché ad oggi l'area di crisi non solo per Gela non beneficia di una legislazione speciale. Dunque c'è grande preoccupazione sul destino dei lavoratori privi di ogni sostegno economico. CGL e Cislewil hanno tenuto un tavolo regionale per trovare soluzioni sugli ammortizzatori sociali in deroga a beneficio di più di 100 lavoratori dell'indotto in considerazione dei 74 milioni di euro che la regione ha a disposizione. Pur prendendo atto da Eni dell'utilizzo di circa 1.300 risorse dell'indotto nei tre siti Eni presenti a Gela, le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'avvio immediato di cantieri per un maggiore utilizzo di lavoratori metalmeccanici ed elettrostrumentali. Per CGL e Cislewil le proteste sindacali dell'ultimo mese hanno prodotto un risultato sperato dal territorio, cioè maggiore attenzione da chi può e deve decidere la riconversione e quindi l'avvio della riqualificazione del personale. CGL e Cislewil a tutti i livelli hanno convenuto durante un incontro sulla vertenza Gela di attivare la presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere misure straordinarie ed immediate. Il Ministero riconvocherà le parti entro 45 giorni. La Regione siciliana la prossima settimana.